Se hai scelto di installare un sistema di climatizzazione o un semplice climatizzatore o sostituire i vecchi climatizzatori che già hai installati a casa tua, puoi rivolgerti a Soladria. Soladria è installatore autorizzato di Daikin. Con i nostri tecnici potrai scegliere tra la versione standard e la versione Emura. Per tutte le soluzioni Daikin potete avere 4 anni di garanzia prodotto fornita direttamente dal produttore e classe di efficienza A++++ e tutto questo unito a comfort e design di primaria qualità. Altre due caratteristiche importantissime dei sistemi Daikin sono la estrema silenziosità e la possibilità di gestire tramite app e wifi tutte le funzioni del climatizzatore. Quindi se state pensando di installare un sistema di climatizzazione di alta qualità, rivolgetevi su Soladria, troverà per voi la giusta soluzione Daikin.